Sensibilizzare ed educare i più piccoli al rispetto dell'ambiente è l'iniziativa messa in campo dalla cooperativa Polis dal titolo Jump, un mondo pulito, in collaborazione con Asi, Pesaro e Urbino, in sinergia con Aset, S.P.A. e il comune di Fano. Il progetto prevede che i giovanissimi iscritti ai centri estivi venga insegnato come mantenere nel tempo un mondo migliore e pulito, con piccoli e semplici gesti quotidiani. Questo progetto Jump, un mondo pulito, nasce come evento conclusivo di una filosofia di pensiero che accomuna tutti i centri estivi Jump, ovvero quello di far vivere il più possibile il bambino a contatto con la natura e quindi il rispetto per la natura e quindi raccolta differenziata, modalità corretta di dividere i rifiuti e anche la filosofia del non spreco. Nella giornata di oggi ogni centro estivo ha individuato una location, uno spazio, un'area pubblica, un parco giochi, probabilmente nei pressi proprio del quartiere del centro estivo o uno spazio che viene spesso utilizzato dai bambini stessi del centro estivo. Tutti questi bimbi muniti di guanti e sacchetti sotto forma di gioco hanno ripulito dalle cartacee, dalla plastica e da quant'altro questo spazio. Viene da sé, è facile capire che in questo modo i bambini imparano, imparano rispetto per l'ambiente, per la cosa pubblica e imparano anche a differenziare. Presente anche l'amministrazione fanese attraverso il vice sindaco e assessore all'ambiente Loretta Manocchi che ha sottolineato come le azioni di sensibilizzazione a difesa dell'ambiente siano fondamentali e indispensabili e che ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte, soprattutto iniziando dai più piccoli. Anche Aset ha fatto la sua parte distribuendo sacchi e guanti ai bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni che hanno preso parte all'iniziativa per poi premiarli con un simpatico regalo. Questo genere di collaborazione, questo genere di iniziative sono comunque da parte nostra una grossa risorsa perché possiamo mettere in atto tutte le tecnologie che vogliamo, tutte le modalità che vogliamo dal punto di vista tecnico, però il fattore umano nella qualità della raccolta dei rifiuti, nella modalità di mantenere la città pulita e quant'altro è secondo me determinante, nel senso che ci sta tutto, ci stanno i consigli, ci stanno le tecnologie, però ci deve essere alla base una concezione per la quale tutti teniamo in considerazione questo nostro pianeta come il nostro, questa città come la nostra e quindi avere cura di questa cosa. Chiaramente quando questi sentimenti vengono fatti propri dai bambini per noi sono delle garanzie per il futuro.